Teenage Mutant Ninja Turtles della IDW numero 7 Arriva Shredder Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo Bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja Che come ogni settimana nel weekend Specie quando mi dimentico di pubblicare i video al sabato Esce il video in cui parlo appunto delle Tartarughe Ninja Ovviamente i fumetti editi da Panini Comics in Italia E da IDW negli Stati Uniti Ormai siamo al numero 51 È uscito questo mese Lo trovate in tutte le fumetterie E in tutte le librerie dedicate Non in edicola Qua sotto magari in descrizione vi metto il link diretto dal sito della Panini Ma in attesa che esca il numero successivo Dato che è un bimestrale Quindi esce ogni due mesi quando va bene Quando non ci sono problemi come ritardi dovuti alla crisi della carta O al fatto stesso che questo fumetto ha subito parecchi ritardi in passato Per tappare queste settimane io parlo dei vecchi numeri Sono arrivato al numero 7 Di cui parlerò con voi nel video di oggi Prima di cominciare se ancora non l'avete fatto Vi chiedo di iscrivervi al mio canale Di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video Anche a tutti gli altri che vi frega Di condividere il video con tutte le persone che hanno un guscio E di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero La storia come spesso accade in questi primi numeri si divide in due parti In due storie Nella prima parte continua esattamente dove ci eravamo lasciati nel mese scorso Ovvero con April O'Neil che fa finalmente la conoscenza dei nostri eroi Con la corazza e ovviamente sviene per dei sensi E questo episodio si apre con lei che si riprende E si becca un riassuntone di quello che è successo in questi numeri Ovvero che queste sono le quattro tartarughe che lei aveva nel suo laboratorio l'anno scorso Che sono state mutate Che ora sono grandi come degli adolescenti Come degli adolescenti umani Che sanno destreggiarsi con delle abilità ninja E che sono in lotta con altri ninja Che volevano rubare il mutageno Che poi le ha rese quello che sono ora In tutto questo la Stockgen, quindi la azienda per cui April O'Neil sta facendo uno stage Capitanata da Baxter Stockman È la responsabile del rapimento di Splinter Ha mandato avanti un loro, chiamiamolo scagnozzo Anche se diciamo che è più un freelance Questo gatto antropomorfo che si chiama Vecchio Diavolo Per rapire il maestro Splinter E qua arriviamo appunto nelle prime vignette In cui il maestro Splinter è proprio alla mercè di Vecchio Diavolo Presso i laboratori Stockgen Insieme a Vecchio Diavolo c'è anche questo scienziato Che si chiama Chet Allen Che è molto sospetto Non si capisce bene Fa una telefonata e parla a qualcuno Sembra quasi che parli al clan del piede Ma non ci ha dato saperlo in questo numero E Baxter Stockman sta arrivando presso il laboratorio Con il suo fornitore di fiducia Alla persona per cui sta lavorando Per ottenere dei soldati mutati Ovvero il generale Krang È bello come in questo scenario dell'IDW Krang, Baxter Stockman, il clan del piede Siano tutte entità separate Non sia un unico gruppo che collabora per combattere le tartarughe Ma siano tanti nemici diversi Con cui le tartarughe si debbono scontrare La prima parte di questo fumetto Vediamo i nostri eroi entrare alla Stockgen Facendo irruzione Facendosi aiutare da Casey Jones Da April che sta facendo da palo E anche da un Mauser Che è stato ricalibrato da Donatello Che serve un po' a depistare le prime guardie Le altre guardie vengono, diciamo, tramortite da Raffaello e da Casey Non prima di avergli estorto dalle informazioni E infine c'è una sorta di Mauser gigante Che viene distrutto sempre da Raffaello e da Casey Quando però arrivano sul luogo del misfatto Scoprono che il maestro Splinter non c'è più Ebbene sì, in questo numero c'è stato un rapimento nel rapimento Come una specie di rapimento matrioska Ebbene sì, a metà del numero scopriamo Che Splinter è stato rapito ulteriormente dal clan del piede Confermato il clan del piede Per noi lettori, le tartarughe ninja ancora non lo sanno E confermata la presenza del nemico numero uno delle tartarughe ninja Ovvero il maestro Shredder Nella seconda storia assistiamo a due fronti Uno è il fronte tartarughe ninja che si devono trovare A confronto con questo nuovo rapimento Con questo essere caluti dalla padella alla brace E ha uno dei più forti litigi tra di loro Perché appunto non è tra Leonardo e Raffaello Ma su come procedere Ma è tra Leonardo e Donatello Sul fatto che Leonardo è convinto di quello che gli ha detto Splinter Ovvero del fatto che questi ninja che si stanno vedendo in giro Nelle strade di New York Siano proprio i ninja del clan del piede Mentre Donatello dice che è solo una supposizione di Splinter E di conseguenza di Leonardo Ma solo perché sono dei ninja non significa che siano di questo famigerato clan del piede Di cui nessuno è a conoscenza E durante questa disquisizione filosofica Per cui litigano per stronzate Raffaello che è molto pragmatico dice Non me ne frega niente se sono dei ninja O i ninja del clan del piede Fatto sta che questi stronzi hanno rapito Splinter Cosa facciamo? In un litigio generale Michelangelo cerca di calmare tutti gli animi E fortunatamente la presenza di April serve un attimino a mettere tutti a tacere E farli riposare Nel negozio delle seconde opportunità Ovvero il negozio dei genitori di April Che abbiamo visto anche Credo nei fumetti originali Non me lo ricordo sicuramente lo abbiamo visto nel film del 1990 Esattamente come anche il rapimento di Splinter Lo abbiamo visto nel film del 1990 Oltre che nei primi episodi della stagione dell'87 delle tartarughe ninja Adesso non ricordo se anche nella serie dell'84 Scrivetemelo qua sotto In questa versione però c'è un problema Splinter Fondamentalmente è un topo Ed è la reincarnazione di Amato Yoshi Che è un guerriero del Giappone feudale Di conseguenza come puoi presentare Oroku Saki sotto il casco La maschera di Shredder Dato che dovrebbe essere morto da circa 400 anni Non lo si sa ancora Lo scopriremo nei prossimi numeri Il fatto sta che a tutti gli effetti Dietro la maschera di Shredder C'è Oroku Saki L'antico nemico di Splinter Del Giappone feudale Scopriremo nei prossimi numeri Cosa è successo Il fatto sta che lui è ancora in vita Ed è ancora nella sua fisicità umana Non si è reincarnato in qualche animale Come è successo a Splinter E ai suoi figli le tartarughe Shredder che parla pochissimo Parla più che altro attraverso Karai Oroku Karai Che scopriremo più avanti Non essere sua figlia ma sua nipote Vuole da Splinter Una sorta di prova d'onore In modo da prenderlo con loro Per allearsi al clan del piede E non lo sta chiedendo Cioè non sta chiedendo un'opinione di Splinter Gli dice semplicemente Ok adesso ti mettiamo di fronte A una prova di combattimento E se sarai degno Entrerai nel clan del piede Ma Splinter non vuole assolutamente Entrare nel clan del piede Perché sa che questo clan È stato portato al disonore Da Shredder stesso Ciononostante Deve combattere Con uno dei guerrieri del clan Per la sua vita Ovviamente quando è il momento Di vincere Perché chiaramente Splinter Quindi vince Su uno scagnozzo del piede Si rifiuta di togliere la vita Al soldato E Fa un discorso Per il quale il clan del piede Ha perso l'onore Molti anni fa Da questo discorso Shredder capisce che Dietro all'aspetto Di questo ratto C'è il suo antico nemico Amato Yoshi Il numero si chiude Con un cliffhanger In cui una volta che Shredder ha scoperto Che dietro a questo ratto Splinter C'è il suo antico nemico Amato Yoshi Ordina al clan del piede Di farlo fuori Di distruggerlo Quindi vedremo nel prossimo numero Cosa succederà Noi ovviamente ne parleremo Settimana prossima Non so se è il giorno di Natale O il giorno di Santo Stefano Comunque Restate sintonizzati E Approfitto per farvi Gli auguri di buone feste Che vi rifarò poi anche Nel prossimo video Nel frattempo Con l'inchino e con l'imbuto Vi saluto e vi dico Arrivederci Al prossimo video